A due anni dall'ultima Euroluce, quali sono le novità tecnologiche e quali anche le sorprese che vedremo alla prossima Euroluce? Le sorprese naturalmente non le svelo, anche perché probabilmente alcune non le so. Per quanto riguarda la tecnologia, certamente vedremo un uso molto diffuso dei LED, molto più di quanto non abbiamo visto due anni fa. Soprattutto i LED sono migliorati tantissimi nell'emissione di luce, quindi nella qualità del flusso luminoso e nella dispersione del calore. Pertanto sarà possibile lavorare su oggetti di forme diverse che non dovranno tenere conto di alcuni aspetti tecnici. Quindi io credo che vedremo una diffusa applicazione dei LED a 360 gradi e come sempre a Euroluce vedremo la massima espressione dell'eccellenza italiana, del saper fare italiano, che forse questa è la cosa più importante. Grazie. Grazie. Grazie.